La mattina è in onore dello scià di Persia, si fa, si fa. Eh, così tornavo la Piemontenistra. Senti, Peppinico. Tu, appena devi arrivare il primo cliente, tu corri dal pizzaiuolo e ordini subito una bella pizzella, la solita. Stai tranquillo, papà. Eh, eh, stai, stai, stai. Eccellenza, buongiorno. Buongiorno. Papà, la mattina è la vita. Buongiorno, eccellenza, mi dica... Mi dico un'informazione, per favore. Dica, dica. Eh, vorrei sapere, la strada per la dalla stazione, da che parte è? È Peppiniello! È Peppiniello! Un falso allarme! Ma come dico io, con tanta gente che sta a Napoli, lei viene proprio da me a domandarmi l'informazione per sapere dove sta la strada per la stazione. Ma cosa crede che io sto qui, sto per divertirmi? È vero, l'informazione gliela posso dare, gliela posso dare per iscritto. Gli posso magari fare anche la pianta, ma lei me la deve pagare, però. Agà, ma mi faccia il favore, io le ho chiesto un'informazione, non una lettera. Ma mi faccia il favore a lei, sa? Fruttatore di sangue umano! Papà, e allora? E allora, figlio mio, lui, ci eravamo mandato vicino. Ci vuole pazienza. Ma se vuoi fare? Perbacco, questo dov'essere un cliente, non guardare. Capace che per la suggezione non si firma. Eccolo, eccolo, eccolo. Papà, posso andare? Un momento. Lei lo sa dove sta la stazione? Sì, che lo so. E che gli c'entra la stazione? So c'è un'ultima che mi ha a scrivere una lettera, sa? La lettera? Corri, vai. Una lettera da carta, sa? E perché la lettera si scrive di poche l'altro. Lei è ignorante? Io, sì. Bravo. Viva l'ignoranza! Tutti così dovrebbero essere... E se ha dei figliuoli, non li mando a scuola, per carità? Non li regliano tanto. Ti faccia sguazzare l'ignoranza? Non lo tengo con un bar nepoto. E proprio da lui deve scrivere la lettera, sa? A lui. Quanti anni ha questo comare? Tiene 45 anni. 45? Eccola qua. Questa va benissimo. E chi è questa? No, vedi, noi le lettere le scriviamo prima, di modo che... Guarda, dire, la persona... Nona, tu non sai che devo scrivere qui dentro? Ma vabbè, non vuol dire, guadagniamo tempo. E che fai, gli ho fatto miei. Ma scusi, lei mi ha detto che suo nipote comare ha 45 anni. Questa lettera l'ho scritta tre anni fa, per un signore che ne aveva 42. E' questo signore che aveva comare miei. Ma non vuol dire, ma gli va bene. No, una paesana non mi piace. Ma gli andrà bene. Ma no, non me la fa male. La vuole da capo? Propa da capo. Scriviamola da capo. Io lo facevo per lei. Lei con questa lettera economizzava. Ma vuole nuova, facciamola nuova. Siamo qui a posto. Dove? Vuol dettare, va coltanto? Scriviamola? Sì. Napoli? Eh, allora, Napoli, eccetera, 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 sì signore. Caro Giuseppe, compare nipote. Caro Giuseppe, compare nipote. Vabbè, vuole che io... Caro Giuseppe, compare nipote. Nipote, sì, nipote, sì. A Napoli sto facendo la vita, sto facendo la vita del signore. A Napoli sto facendo. Sto, Stocio, io Stocio, tu Stocio, non esiste questo. Non ti piace Stocio? Sto! Sto! Io Sto! E mi fa scrivere... Più corto, ma. Mi fa scrivere Stocio. Santo Dio, come si fa, come si fa. Fai qua. Questo lo ha scritto, l'hai comprato io. E me lo sta prendendo a cangiare di quello. Per lo sto facendo. Paga sempre io. Ah, bravo, bravo. Paga sempre lei, bravo. Pepperello, quelle pizze ti vendono due. Dica, dica, dica. Alla sera, me la vaca all'utrabarena. Bene, alla sera, me la vaca all'utrabarena. Me la vaco, me ne vado. E me ne esco quanti chiodo. Quanti chiodo? Quanti chiodo, ma che sta chiovendo in nostro, vedi? Quanto chiodo? Chiodo? I chiodo non li portano. Ah, quanto chiodo. Fai, fai, fai. Dice chiodo. Dice chiodo. Chiude, chiude. E per questo... Mi dica il pensiero. E per questo... E per questo... E per questo... Mandami... Mandami. ...un po' di soldi. E per questo mandami un po' di soldi. Perché non tengo nemmeno i soldi... ...per pagare la lettera... ...all'uscravano che mi sta scrivendo la lettera presente. E poi? E poi... Mettaci... ...li saluto... ...pondo. Ma che saluti! A saluti! E che? Ma che saluti a saluti! Vai via! Ma saluto! Vai via! E rinchiace di io non mi dico mai perché mi serve! Vai via! E che? Chiude, ponte! Chiude, stace! Ma fa perdere del tempo inutilmente. Papà, ripeto sono i soldi, dammi i soldi. E che soldi è soldi, che pizza è pizza. Mi è passata la pedina. Non voglio mangiare più. Vieni qua. Tieni, vai dal cavalino. E speriamo che anche oggi ci aiuti.